Amiche ed amici da Franco IV, bentornati all'appuntamento con Supposte. Nel PD calabrese, supposte magie o magie a supposte? Per rispondere, linea ai nostri colleghi. Grazie come di consueto, da Francesco Errante, da Luca Achito, Luca Achito, Deus Ex Machina. Entriamo subito nel merito del nostro proporre supposte situazioni. Chi meglio di Mago Orno, con le sue magie nel mondo della politica, potrebbe dar risposta a questo quesito? Chi meglio di lui? Allora, collegamento con Mago Orno, che dovremmo avere già in ascolta. Com'è stato? Bene, bene, tutto a posto. Se poi volete, vedete come si alza, se volete vi posso leggere tranquillamente un ginocchio, scegliete voi l'arto, la mano, la pianta del piede, la palma che avete nella mano. E' un momento difficile, è complicato, perché tutti vogliono fare i magie Errante. Errante, mi senti? Bene, perfettamente. Alter, mi senti? Ma cosa che... Pure io ti sento, ti sento dentro, ti voglio bene. Vi ho messo solo lo stesso piano, a te, Renzo Bruno Big Boss. Siete tre quelli che io ho nella mia considerazione artificiale. Grazie. Guglielmelle e Renzo Bruno Big Boss. Eppure ce n'è qualcun altro, eh? Quarto, quarto, mi senti? Sì, sì, perfettamente. Dicici quali altri ci sono. Ma che c'è, Adamo, Eva, Brontolo, Pisolo, Caina, Bele. Io mi confido, io mi confido, io non ho la presunzione che voglio fare tutto quanto io, quindi ci vuole una magia, chi è che fa la magia? Mago Orno, o no? E allora, la soluzione è già nel problema, dici, pd, 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 ti piace o pd? Non mi piace o pd, è come un presepio, non ti piace o presepio, te deve piacere o pd? A Matteo, ci penso io, Matteo, mi sta facendo ammattire. Grazie. Me la prossimo poco. Si riposi tranquillamente, stia tranquillo, abbiamo rievocato anche il grande De Filippo, abbiamo voluto ricordare con non mi piace o presepio il grandissimo Luca De Filippo scomparso di recente. La chiusura per il nostro Franco IV. Sei sempre bello, Franco, questo te lo devo lanciare come ultimo messaggio, veramente è un tocco di sciccheria la tua presenza all'interno di noi, in Dranos. Si fa quel che si può, ma il tempo è tiranno, è tiranno, tiranno, è finito. Grazie.